Il percorso è ubicato tra l'abitato di Sant'Andrea e l'isolotto della Formica, a circa 100 metri dalla costa. Le boe di Ormeggio sono ancorate sulla sabbia, dove l'acqua limpida lascia una visione di insieme di notevole effetto visivo. Il fondale verso riva è ricoperto da una fitta e rigogliosa prateria di Posidonia. Verso il largo invece è caratterizzato per un tratto da emergenze di roccia granitica che si ergono per 4-5 metri da un fondale di 15-20, fino a raggiungere un'orlata di scogliere che precipitano i fondali più impegnativi. Nell'alternanza degli scogli, ricoperti da un feltro di alghe, piccole grotte e fessure colorate sono sicuro rifugio per i pesci. Il fascino delle forme, unitamente ai cromatismi del paesaggio, provoca al subacqueo sensazioni inimmaginabili, che a volte sono perfino troppe nelle due immersioni consigliate nella sentieristica. E' proprio qui, sul fondale del careno, che la vita subacquea è la vita subacquea, della luce. Essa, in tempi annebbiati dalla lontananza, fu illuminata da personaggi come Alessandro Oischchi, Gianfranco Bernardi, Claudio Ripa, Ennio Falco e tanti altri nomi altrettanto illustri. Il luogo è sempre stato metacostante di centinaia di subacquei sensibili alla bellezza di questi fondali. Un sito mirato è quello del careno, sia per la suggestione della terra emersa, con splendidi sosseguirsi di alte pareti di rocce granitiche e minuscole insenature incastonate come gioielli nella costa, sia per l'esuberanza della vita sottomarina che prospera in questi fondali rocciosi. Ovunque risaltano i colori dei poriferi, che in varie stranissime forme invadono ogni fessura, tessendo un tappeto multicolore. In tali fessure spicca il giallo dei parazoantus, di cui sono fiorite le rientranze delle pareti, unito ai tenui colori delle corolle dei grossi spirografi presenti qua e là. Nel mese di agosto queste scogliere sommerse sono percorse da forti correnti che sono la ragione della straordinaria ricchezza di vita sottomarina, stanziale e di passo. Però questo spostamento della massa d'acqua può spesso rendere l'immersione difficile. Per ovviare a tale inconveniente sono stati studiati due percorsi. Sotto la boa numero 1 è stata fissata la tabella del percorso in assenza di corrente, mentre sotto la boa numero 2 è posta la tabella con la mappa che indica la direzione da seguire con la corrente a favore. La ricchezza del substrato, la varietà e la qualità delle specie presenti e la possibilità comunque di incontri con branchi di barracuda, di ricciole che vengono dal blu e ti girano intorno, scrutandoti con quei grandi occhi neri e rotondi, dentici dubitosi che ti passano a poca distanza, fanno del careno di Sant'Andrea una tappa obbligatoria nel curriculum di un buon subacqueo. Grazie a tutti.